La bellezza salverà il mondo. La profezia del principe Mischkin nell'idiota di Dossoieschi riecheggia nella cappella di Santa Marta quando Francesco torna a pregare per gli artisti, di cui solo dieci giorni fa aveva alloggiato la creatività. Vorrei chiedere il Signore e gli benedica perché gli artisti ti fanno capire cosa è la bellezza e senza il bello il Vangelo non si può capire. Preghiamo un'altra volta per gli artisti. Nell'Omelia il Papa ripercorre la storia di grazia ed elezione tra Dio e il popolo di Abramo per ribadire che il cristianesimo non è una dottrina né tantomeno un'etica o un'elite di gente scelta per la verità. Il cristianesimo non è questo. Il cristianesimo è appartenenza a un popolo, a un popolo scelto da Dio gratuitamente. Se noi non abbiamo questa coscienza di appartenenza a un popolo saremmo cristiani ideologici. Francesco mette in guardia dalle parzialità dogmatiche e morali e invita a fare memoria di chi, santi e peccatori, ha segnato la storia della salvezza. Il popolo ricorda il Papa, è il fiuto per la fede, è il protagonista di un'alleanza con il Signore che forse non compie ma conosce.